Faccio parte dei selezionatori, anche l'anno scorso sono stato selezionatore, in passato in giuria, quindi credo che questo testimoni la mia totale adesione a questo festival. I festival di teatro sono sempre importanti perché il teatro racconta cosa siamo, racconta la nostra società, pone domande, non sappiamo se ci sono le risposte, ma però ci pone delle domande molto importanti, a maggior ragione in un luogo così carico di storia e anche di cultura come Casa Cervi, per cui lunga vita al festival di resistenza Casa Cervi.